Quindicesimo giorno del calendario dell'avvento Dobbiamo testare le tue qualità artistiche e la tua fantasia Prepara un cartello colorato Creare un po' di clima natalizio Ecco, ho appena finito di farlo, eccolo qua Per cambiare un po' l'ho scritto in portoghese Feliz Natal Che tradotto in italiano è Felice Natale Ma noi diciamo sempre Buon Natale Sedicesimo giorno del calendario dell'avvento La cucina ti aspetta, oggi prepara una squisita torta di cioccolato Iniziamo mettendo l'olio E poi il latte Aggiungere lo zucchero E anche due uova E anche la farina E per ultimo il cacao Dopo aver mischiato per bene tutti gli ingredienti Aggiungere il lievito per dolci Dopo aver imburrato e infarinato la forma Aggiungere l'impasto E mettere in forno a 180 gradi per 40 minuti Eccolo pronto Assaggiamo Diciassettesimo giorno del calendario dell'avvento Oggi usiamo penna e fantasia Scrivi una storiella natalizia La storiella che ho scelto si intitola Il vestito di Babbo Natale Babbo Natale quest'anno è stanco Del suo solito look rosso e bianco Dice Nuova vita, nuovi colori Questi li addosso dagli albori Così si reca dalla sarta del polo Che abita in una casa a forma di ghiacciolo E senza troppi giri di parole Spiega alla fanciulla ciò che vuole Per accontentarlo Lei fa tutto il necessario E gli mostra il suo immenso campionario Ma purtroppo Lei è chiaro immediatamente Che non è per niente facile Averlo come cliente Scarta un vestito verde Fatto di pregiate sete Perché quello è il colore della pete Poi la stoffa gialla Alla sartina vieta Perché quello è il colore della stella cometa Allontana anche il marrone Con un gesto solenne Perché quello è il colore delle renne La sarta con le lacrime a io Il magone Gli propone a loro un vestito arancione Lui lo indossa Poi si guarda allo specchio Ma dice che il colore lo fa sembrare più vecchio Così alla fine decide di mettersi addosso Ancora una volta il vestito bianco e rosso Diciottesimo giorno del calendario dell'avvento Un altro venerdì E quindi un'altra sessione cinema E non dimenticare i popocorno Un altro venerdì Un altro venerdì Musica Diciannovesimo giorno del calendario dell'Avvento Il tempo vola. È già sabato. Leggiamo in famiglia qualche passo della Bibbia. Ho deciso di leggere. Gesù insegna a pregare. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro Quando pregate, dite Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Ventesimo giorno del calendario dell'Avvento Domenica Questa parola ti dice qualcosa? Sì, esatto. Caccia il tesoro Parla senza bocca Ti batte e non ti tocca Corre senza piedi Passa e non lo vedi Questa c'è il suono? Quasi La musica? No L'umore? No Ah Vento Vento, 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 vento Zafia No, questa è la musica No, questa è la musica No 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 Belli o brutti li puoi imparare Ma nessuno li puoi mostrare I sogni Quando si uniscono separano Quando si uniscono separano Quando si uniscono separano Le formici Le formici Perché si uniscono però poi separano qualcosa Perché si uniscono separano Adesso è uno grande con cinque indovinelli Dopo ho finito quello là Il regalo sta qua Nasci in terra e muori in cielo È Perché sobe Un'ala atmosferica sobe Tu sai sai perché? Che cosa è? Lossi Vapor? No Lossi? Quasi La condensa? No, quasi No No Esce una ceminae Ah, il fumo Il fumo Va nell'acqua e non si bagna Tra le spine e non si punge Entra in casa e non ci resta È stato sato? No, allora Questa qua è difficile Questa qua è difficile Allora Entra in acqua e non si bagna Ok, l'estate 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 Il sole, le nuvole Il sole, sento Allora poi Può essere passato anche se è presente Passato? Ah, piace a te L'unica cosa che piace a te Può essere passato Può essere passato Può essere passato No, non mi sta seguendo No Anche se è presente Eh Le verdure Il minestrone Il minestrone Il minestrone Eh beh, il minestrone Prende le cose sullo stelle Che cosa è? Prende 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 Le cose Non è La fede La fede La fede nunziale Che cos'era? La fede Prende le cose sulle Prende le cose sulle Prende le cose sulle Tardone Tunesimo giorno del calendario dell'avvento Oggi esprimi i tuoi buoni sentimenti Scrivi una bella lettera di auguri ai tuoi genitori Tanti auguri di Natale Vi auguro di essere felici Oggi e per sempre Buon Natale miei cari genitori Vi dedico un augurio dal profondo del mio cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.